Secondo te gente come Charlie Chaplin o Totò è sopravvalutata? No Perché io ho una cultura zero, riguardo queste persone qua E vorrei da una persona che non parla a bambera sapere da dove cominciare, se dovessi cominciare Guarda allora, diciamo che per quanto riguarda Charlie Chaplin ovviamente Ecco il mio attore e il mio regista arcobaleno preferiti occhiolino occhiolino Non sapevi bene come disporre questi complimenti però ci hai provato, grazie Dove posso cercare? Qui, non serve per le mie bande però io dico sempre no, metterci la scena Allora in realtà vabbè, ovviamente Charlie Chaplin parliamo di regista e attore in un'epoca particolare Nel senso che poi lui come Buster Keaton ad esempio hanno avuto un grave problema durante la band del sonoro Ok, sicuramente questa è una cosa interessante per te perché lavorando con i video Il cinema muto secondo me dovresti approfondirlo Poi in realtà è cinema muto per finta, nel senso che il film era muto ma c'erano sempre C'erano musichette C'erano solitamente o orchestre di accompagnamento durante le proiezioni con i vari rumoristi E ovviamente sia Chaplin o Buster Keaton Ma il rumore si tipo cadeva qualcosa per te e le faccia Sì sì sì, c'erano proprio delle figure che replicavano dei suoni particolari I primi sound designers Esatto, esatto, fighissimo Sia lui che Chaplin, quindi i grandi artisti del muto, del cinema muto Poi hanno patito molto il passaggio al sonoro E c'è anche un film interessante che è Lucide la ribalta con entrambi Se non erro Sì Lucide la ribalta è quello di Fellini Dove si vede insomma questo difficile passaggio Poi Chaplin ce l'ha fatta, Buster Keaton no Nel senso che è morto quando è morto Che difficoltà hanno trovato E beh, considera che loro hanno costruito tutta la loro carriera Tutto il loro personaggio Proprio sul fatto che fosse essenzialmente tutta mimica Ok Quindi il classico nuovo personaggio che cambia in un certo modo Poi vari archetipi di personaggi E quindi il sonoro cambia completamente il cinema E non ha funzionato più perché la gente col sonoro aveva altre aspettative O perché loro, dandogli una voce, perdevano la mimica Il loro registro comunicativo era diverso Poi ripeto, Buster Keaton c'è riuscito meno Quasi morto artisticamente Chaplin un po' di più Nel senso che è riuscito Inizialmente faceva parlare un pochino alcuni personaggi Poi c'è il personaggio Charlo Che è quello più famoso Quanto riguarda Totò è un discorso particolare Nel senso che lui ha preso parte a tantissimi film Tantissimi perché ovviamente vendeva In maniera inimmaginabile Lo troviamo raffigurato in ogni ristorante italiano Esatto Molti non sono bei film Assolutamente Lui è sempre stato un mattatore Però spesso i registi si imitavano a Buttiamo Totò lì che tanto è amato Senza un vero e proprio copione Era un cazzo di influencer Veri, sì Però era anche un genio ovviamente Quale è il tuo maggior contributo? Guarda, secondo me Il film, forse l'unico No, no, intendo Cosa ha iniziato? Beh, secondo me è equiparabile Tranquillamente a personaggi come Keaton e Charlo Nonostante lui abbia fatto personaggi Ovviamente che parlano Perché quel volto Che sembrava una vera e propria maschera Cioè la faccia di Totò È un cazzo di maschera di lei Che è replicabile quasi al pari Della maschera di Ghostface Se ci pensi E questa è una cosa incredibile E vabbè poi ovviamente ha rappresentato Molti stereori Marco perché ti cade l'occhio al seno di Marra Sto ragionando E comunque I vari Non lo so Toto Truffa Devo vendere a Fontana di Trevi Queste cose qui particolari Vabbè poi lui Di veri e propri cavolavori Diciamo che Non ha preso parte a moltissime opere Che tu puoi prendere E definire tali Cioè il film di Municelli È meraviglioso Dove lui fa una piccola parte È un film che poi è stato copiato ovunque I soliti gnoti Veramente Conoscerai Quindi Indubbiamente È difficile valutare Con i parametri di oggi Questi film Che siano i Chaplin Questo problema Però Guarda Con un minimo Un minimo proprio di approfondimento Vedere qualche opera Di questi artisti Poi per Chaplin e Keaton In realtà è più facile Perché erano sia registi Che attori Quindi sono più personali Toto magari Becchi in film Che Non ti dice molto Del personaggio Invece per quanto riguarda Gli altri due Sì È più È più facile Vabbè Secondo me Dopo tre o quattro film Dallo stesso regista È più facile Approfondire Per quanto riguarda Il regista Che rispetto ad un attore Cominci a capire un po' Tutte le sfaccettature E quindi Poi diremmi tutto da solo Del contributo Poi Studi un minimo proprio Di contestualizzazione storica E capisci perché Sono stati importanti Ecco Questo è quanto Certo È una persona che è totalmente Priva di informazioni Vede un film Di Chaplin Questo Questo è stato Certo Ovviamente Dice Boh Che cazzo Devi anche Aspettarti Qualcosa Che non Cioè Se tu parti con la curiosità Allora Quello che ti arriva Ti becchi E ti stai zitto Non puoi Andare là Aspettando di un Marvel Intendo a livello Di quello che oggi Sono aspettative delle persone Io ho visto Un po' di film Oh Grazie Io ho visto Un po' di film Di tempo fa Bianco e nero Mi preferite Harvey Quello del coniglio È presente? No Sai che non ho visto Mi faccio vedere La copertina Con un attore Che è famoso Ma mi ricordo Ah Harvey Weinstein Cioè Ah James Stewart Ok Mi manca Guardatelo Molto particolare Guardatelo Io già Quando parlavamo Io e te Dario Di Impatto G Avevo già detto Quello che sarà Il video di quest'anno Che farò con Daniele Ma io già In mente Quello là Del prossimo anno Ancora come corto Penso Voglio buttarmi Sul musical Video È un genere Ingiustamente Odiato Ingiustamente Odiato Ma sai perché? Giustamente Ingiustamente Ingiustamente Perché la gente Non sa bene Cosa vuol dire Giustamente Perché chi sa Cosa vuol dire Lo sa molto A livello circoscritto Italiano Quindi Pinocchio Il Leone La Mamma Mia Secondo me Dal punto di vista Cinematografico Poi facciamo Di artista Magari Dal punto di vista Cinematografico I veri musical Sono quelli Con tanta coreografia Tanta camera a mano Tanti long take Tanti piano sequenza Ad esempio Un musical Che mi fa cagare Tanti piano sequenza È Chicago Magin'io Di credo Marshall Credo sia regista Che è lo stesso Di Quell'aborto Di Nine È un musical Sulla scia Di otto e mezzo Di Pellino Per l'amor di Dio E Chicago Mi fa cagare Perché è tutto montato C'è Richard Gere Che sembra bravo A ballare Ma Ho troppi stacchi Invece tipo La La Land Per me è meraviglioso Perché Qui mi consiste Se dovessi buttarmi Questa cosa Di fare piani sequenza Tanti piani sequenza Tanti long take Perché la vedi proprio Eh lo so È un casino Però La La Land Per me È un capolavoro Per quel motivo lì Poi ad esempio Io amo moltissimo Sweeney Todd Perché ha delle canzoni Che sono anche marce Come il tono del film Non sono grandi performance vocali Però porca troia Sono grafianti Sono proprio Cattive Minchia Non me lo guardo Sweeney Todd È bellissimo Bellissimo È di cose invece Quello Bro Della rivoluzione francese Ah ok Perché Sì Cazzo Ragazzi Lo conoscete I Miserabili I Miserables Quello pure Ha preso diretta Buon film Sì Non è male Non è male Conosci The Book of Mormon Aspetta qual è? Book of Mormon Creato dai Creatori di South Park Ah no però Non ho mai visto Bro Teatrale Non c'è video Ma Fuori testa Non esiste Non è scopo digitale Posso andartelo a guardare Ok Io ho visto una copia cinese Di merda Intendo cinese Perché Il tizio che fa il canale Era cinese E ha fatto il video In maniera scam Scam Non perché Era brutta La qualità E quindi è cinese Anche se c'è da dire Che molti prodotti cinesi Di qualità Sono scadenti Ma c'è anche da dire Che li compievo per quello Perché costano di meno Ora che mi sono giustificato In tutti i modi possibili Continuo a parlare Con il mio amico Se non sei visto Guarda di qualcosa Vediamo se possiamo Ti faccio vedere una roba E poi iniziamo Sì Quello col circo Di Jackman Fa cagare Sui freak Una merda Tutto Regia Sceneggiatura The Greatest Showman Se non sbaglio Orribile Gli Oscar Non sono un premio Meritocratico Sono una marchettata Che serve soprattutto Agli studios Per alimentare Quel tipo di Meccanica Commerciale Non è un caso Che Dune Che è un film Che a me è piaciuto molto Abbiamo vinto Determinati Oscar Meritati Se vogliamo parlare Di meritocrazia Ma anche perché Il primo film Ha costato un boato Non è incassato benissimo E devono produrre il secondo Il primo di Dune Non è incassato bene Rispetto a quanto è costato Non è stato un grande successo Comunque per varie motivazioni Hanno dovuto anche pubblicizzarlo In maniera un po' strana Con dei trailer Che promettevano altro Io a bocca aperta Sono il nastro Per me è un grande È un gran bel film A parte che è metafilma Quindi lo decideremo poi La prima parte è figa Cioè il comparto tecnico È devastante Visto al cinema È uno spettacolo Però io sono andato al cinema Senza sapere niente di Dune Una settimana prima Il mio amico Pinguz Che è in chat Mi fa Ma andiamo a vederci Dune E io che cazzo è E lui mi fa Come cazzo è So che esiste questo universo Ci sono un sacco Di similitudini Con tante opere Sci-fi Perché Tanti hanno copiato Dall'opera originale C'è stato pure il film di Lynch Che era interessante Ma Lynch l'ha stato un po' Limitato dal punto di vista produttivo Perché tanti hanno rubato Da quel tipo di immaginario lì E È un po' Se vogliamo Il problema del film Nel senso che sa un po' di rivisto Ma in realtà Il testo originale E quello originale È per davvero La chiave di lettura A me sembra molto diversa È molto impostato Sull'economia E la politica Però in una maniera Intima Mi è piaciuto No no È un bel film Però Questo discorso Era per dire che Molti premi Vengono dati Per sostenere Chi ci ha investito Tipo Ravenant È un film che costato tantissimo Che è una cosa bella Tanti Oscar Sì è Ravenant È quello là D'un di Caprio Dell'orso Dell'orso Nello scopo Sì Un altro film Che è bello De vedere al cinema Ma è Insomma Il film che ha tre righe Di scrittura Al cinema È interessante Anche se io detesto I registi Che ti vogliono Mostrare il cazzo Grosso Come ignarrito Tipo Una delle cose Che detesto È inquadrare Con la macchina Da presa Che si vede La pioggia Oppure C'è una sequenza In cui Arrivano delle frecce Ma si intende Se la pioggia Comincia a piovere La macchina da presa Si alza In questo modo E arrivano le cucce L'odio questa cosa L'odio perché Non voglio vedere i fili A meno che non sia voluto Con una rottura Della quarta parete Io non voglio percepire La regia Infatti si parla Di regia invisibile Nel cinema Che è quella migliore Per me Cioè io devo entrare Lì dentro Se tu mi fai Della camera Esco Infatti per me Le migliori regie Sono quelle che Non percepisci Poi piano piano Ripeti Seconda Terza volta E dici Porca puttana Che cazzo ha fatto qui Era difficile Questa cosa Ma non me ne sono accorto Sembra più semplice Per questo che amo Woody Allen Che è una regia Perfetta Ma mai magniloquente Oppure un'altra sequenza Credo quella iniziale Ai personaggi Ed è la camera Che dirige le frecce Che non è un errore Cioè tipo Inquadro te Ti arriva la freccia Inquadro quell'altro Arriva la freccia Ma che cazzo È mirino Cioè Tra un ti dovrebbe essere Contra Però lì è voluto Cioè tipo Che ne so Lo zoom tarantiniano Leone Eh sì Give me a Sergio È proprio voluto Cioè lì c'è Una rottura O quando mette Che ne so I titoloni Dei personaggi No I nomi dei personaggi Te li mette Questo è Quello Off Si E invece Quello di Gnari Dovrà più Guarda quanto so bravo Guarda che mezzi che ho E quello un po' lo detesto Però vabbè Al di là di questo Era per dire che Ah sì Su Will Smith Se comunque Il premio l'ha vinto E qualcuno l'ha giudicato Degno Cos'ha vinto lui? Ha vinto l'Oscar Come attore Ritirarlo Per una cosa Fuori dall'arte È una stronzata Cioè non si deve Dividere Lui può essere un coglione Ma se quella performance Vale Tu lo premi Ma questo bro Sembra quasi Una coerenza Del fatto che appunto Non sono Maritocratici Ed è solamente Una roba Per farsi vedere Quindi C'è una certa coerenza Ad oirlo Perché non è un applauso All'arte Quanto all'immagine Sono perfettamente Bell'arte Ascoltami Io volevo dirti Queste ultime due cose Per tirarmela un po' Sevama in 94 Ha donato 2 euro Difatti con il discorso Che fa in Marla Birdman è un film incredibile Non è un film incredibile È un buon film E quella regia lì funziona Però La è la La funziona perché Ma la funziona Perché c'è Un discorso Metacilmatografico Ma è tutto Ma fin dall'inizio si capisce Quindi ha senso Quella regia ha senso Per me non è un grande film Un buon film Un bel film E è una regia Che lì ha senso Assolutamente sì E ci sono tanti Finti piano sequenza Coerente anche quello Perché nel teatro Non ci sono stacchi ovviamente Certo E là era tutto Giusto E quindi ha senso E quello è Per questo che Una scelta registrica Può sembrare Sbagliata in un contesto E giustissima in un altro Perché dipende Come utilizzi Quell'arma Parlare con te Però Ti voglio dire due cose Uno Ti sei visto Ennio? No Anch'io Sai non amo particolarmente Le biografie Questo stampo qui Mi sembrava un po' una roba Non si valuta dal trailer Lo vedrò prima o poi Vi siete visti Ennio ragazzi? Però le cose geografiche Così almeno da quello che mi sembrava Non mi appassionano particolarmente Però non ho avuto tempo Se non l'avrei visto Qualcuno in realtà Me l'ha parlato anche bene Quindi forse è da vedere Non lo giudico Parlo proprio di un mio pregiudizio Qui sono sincero Però È ben fatto Ok ok Lo vedrò Io vorrei Vederelo pure Comunque Seconda cosa Ho iniziato Sempre insieme al mio amico Pinguts Twin Peaks Ah vabbè L'ho iniziato da qualche mese L'avevamo stoppato Perché è particolare Vedersi Twin Peaks Oggi ci guardiamo un'altra puntata Quando finisci tutto Compresa la testa stagione Facciamo una live Ok In sei ore Ok Allora bro Non so niente Questo è un simbolo di Twin Peaks Poi lo vedrai Vabbè è un V Allora ti dico le mie impressioni Siamo alla sesta puntata Sì Luminare del cazzo Io Non ho idea Di Ragazzi io la vivo ovviamente Un po' da Regista nel mio piccolo Perché amo Le sensazioni Che Crea Non tanto rilasciare l'arte Ma farla Nel frattempo Grazie dell'euro Stronzo In realtà grazie e basta Come fai Che anni sto girato il primo I primi episodi 90 Come fai negli anni 90 A far girare Quella roba alle persone Senza Sembrare un coglione David Lynch Esatto Guarda Hai descritto Perfettamente La generalità di quel regista E te ne accorgerai Con la seconda stagione Non vedo l'oro Sai perché? Perché la seconda stagione Levate Credo le prime due puntate Le ultime due Non è Scritta da Frost Non è diretta da Lynch Ed è una merda No 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 Perfetto Diego tv La seconda stagione è incredibile La seconda è solo Filler E ha delle puntate veramente Clinici Perché vedi quelle cose lì Che grazie alla regia di Lynch La sua Incredibile Non solo direzione di attori Sound design Le prime otto sono le sue Poco regia Otto Della seconda Infatti Pensavo meno Pensavo tre La seconda è il doppio Della prima A lunghezza Ma è piena di filler E ha dei personaggi Che hanno dei cambiamenti Adesso non spoiler O che non hanno alcun senso E sono solo imbarazzanti Invece Ciao Marco Saluta Daniele Nonostante accadano cose assurde Cose assurde Nei film di Lynch Al massimo ti crea Ti stordisce Non ti imbarazza mai Anche dei personaggi Non mi imbarazza mai E poi vedrai Devi vederti anche La terza stagione Che per me Ritorna Per me È solo Lynch Per me è il prodotto Audiovisivo Più bello Degli ultimi dieci anni Cosa Allora mi stai dicendo Che la seconda Deve essere un cazzo Che devo prendermi nel culo Per poi godere con la terza E allora lo si fa Mamma mia